L'astigmatismo è un difetto di vista in cui il paziente vede male sia da lontano che a mezza distanza che da vicino, non c'è un punto in cui riesce a vedere a fuoco. Nella maggior parte dei casi l'astigmatismo è dovuto al fatto che la cornea ha un raggio di curvatura su un asse diverso da quello che è sull'asse perpendicolare, il che significa che non si forma un fronte d'onda puntiforme, ma si forma un fronte d'onda a forma di pallone da rugby. Più a fuoco su un asse e non a fuoco sull'altro. Ovviamente questo tipo di difetto è più difficile da correggere perché la correzione deve essere solo su uno dei due assi, cioè su un asse deve essere zero la correzione e sull'asse invece difettoso deve essere corretto in base all'entità del difetto. Le lenti che correggono l'astigmatismo si chiamano lenti cilindriche o astigmatiche o toriche, quindi quando si sente parlare di toro o di cilindro siamo sicuri che ci stiamo riferendo a una lente che corregge l'astigmatismo. L'astigmatismo può essere corretto con lenti toriche e queste lenti toriche possono essere messe sull'occhiale, possono essere messe a contatto, possono essere messe all'interno dell'occhio e possono essere messe al posto del cristallino. Quindi si può rimuovere il cristallino in caso di cataratta o di altra necessità e mettere al suo posto un cristallino artificiale che correga il difetto del cristallino e in più abbia anche la capacità di correggere l'astigmatismo, quindi toriche. Ogni volta che sentiamo parlare di lenti astigmatiche o toriche sappiamo che sono lenti per correggere l'astigmatismo. Una delle caratteristiche di queste lenti è che devono essere orientate su un determinato asse. Se una lente da miope o da ipermetrope noi la giriamo, se prendiamo l'occhiale del miope e lo giriamo, il paziente vede sempre lo stesso modo. Una lente astigmatica o torica invece se la giriamo il paziente vede subito peggio perché la lente ha una funzione determinata dall'asse di orientamento.